Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi ci facciamo due chiacchiere mentre decoro l'agenda Oggi provo a registrare questo plan with me in modalità un po' diversa, sono in doppia registrazione Una di qua e una di qua, vediamo cosa ne viene fuori, vediamo se è una cosa che mi diverte fare Perché poi in realtà a voi non credo che cambierà molto Allora, vi faccio vedere subito, subito, subito gli stickers che ho preparato per questa decorazione E sono questi In realtà sono dei disegni che avevo già fatto l'anno scorso, avevo già usato sulla mia agenda dell'anno scorso Però mi piacevano tanto, volevo metterli anche qua Poi in realtà non posso disegnare per 4 settimane al mese o per tutti i mesi, insomma mi verrebbe un po' difficoltoso Quindi ogni tanto vado a riprendere qualche decorazione che mi era piaciuta E decorazioni nuove ne faccio quando ho un attacco d'arte E parto come al solito ripiegando l'agenda e andando a mettere i banner inferiore e superiore E andiamo a fare proprio la decorazione, lo scheletro iniziale E insomma manco a farlo apposta questa settimana avevo preparato la decorazione novembre at home Novembre a casa E me la sono un po' tirata, diciamo Quasi come se me l'aspettassi Quello che sarebbe stato Questo mese di novembre Forse è il caso di legare un po' i capelli Altrimenti mi fanno impazzire Che poi diciamocela tutta In realtà a me la vita non cambia più di tanto Perché non lavoro da un sacco di tempo Quindi le mie giornate le passo comunque in casa Resto comunque chiusa qui in craft room la maggior parte del tempo a lavorare da qui In realtà non mi cambia più di tanto Però è proprio l'idea di sapere che siamo chiusi E che non possiamo far niente un'altra volta Che fa un pochino impazzire E adesso andiamo a mettere un po' di disegnini qua e là Dunque Cosa vi racconto? Che ieri Praticamente Stavo a letto Sono andata a letto molto presto ieri sera Ed è successo che Mi è arrivato Uno sconto da Sephora Magari se abbiamo due chiacchiere Non parliamo solo della decorazione delle agende Stavo dicendo Mi è arrivato uno sconto da Sephora E mi è venuta la malsana idea di ordinare qualcosa Ma sto resistendo Però in realtà non ho molto Ogni tanto guardo su e controllo l'inquadratura sulla fotocamera Stavo dicendo Non so se è il caso di spendere soldi O di fare la brava Però Qualcosina la comprerei Vorrei prendere Il primer di Benefit Boh Vediamo Vediamo Un regalino per Natale me lo devo fare Giusto? Adesso dovrei trattare Però Sapete che non mi ricordo Cos'era giorno 2 lunedì? Vado a vedere Sul calendario mensile Anche perché Di solito guardo qua sul cellulare Ma adesso mi sta riprendendo Ok lunedì era giorno 2 Meno male Non sono diventata troppo smemoline Ancora non ho perso il conto dei giorni Va bene Vado a datare Va bene Sì ok ho datato e ho messo in today adesso vado a mettere questi boh in realtà non è che questa settimana ci sia stato tanto da fare però facciamo va adesso vado a mettere questi qua ne metto un bel po' anche perché anche se non scrivo anche se non ho molto da mettere in agenda mi piace riempirla di stickers devo essere proprio senza spazi liberi stavo pensando che la prossima volta che farò il brand with me in questa maniera vi chiederò di farmi un po' di domande magari su instagram o in un post qui su youtube di modo che magari abbiamo di più un po' di più di cose di cui checchierare e mi verrà anche più facile farlo in questo modo diciamo che questa volta è giusto una prova per vedere se riesco ad attirarvi di più a guardare il brand with me mmm toste ok adesso io direi di andare a mettere la scritta weekend anche se sinceramente a me ormai sembra di vivere in un eterno weekend lo so che potrebbe sembrare una cosa bella ma in realtà non lo è affatto ok adesso l'agenda diciamo che è più o meno decorata ho messo gli stickers di decorazione adesso devo andare a mi si vede un pochino qui vabbè devo andare a segnare il giusto qualcosina e prendo un po' di stickers il primo tra tutti sono questi gli stickers per segnare il giorno di check del peso in realtà io in questa dieta non andiamo più d'accordo non riesco più a seguirla tanto bene cerco di evitare di far danni di evitare di mangiare schifezze però la dieta vera e propria non riesco a seguirla non ammiro quelle persone che durante il lockdown sono dimagrite e ne conosco tante io purtroppo non riesco vi faccio vedere questa pennina nuova nuova è una penna che ho preso dai cinesi col cactus sopra e quindi andiamo a scrivere il giorno di check del peso perché anche se non seguo proprio alla lettera la dieta il peso continua a tenerlo sotto controllo perché altrimenti bye bye quindi sabato domani dovrò fare check peso poi vediamo dove li ho messi li ho preparati prima ma non so dove li ho fatti finire bravo ce la posso fare ok vado prendo i miei stickers stavo pensando che gli stickers della bilancina non ce li ho mica messi in vendita sul sito devo provvedere però vorrei prima ridisegnarla un pochino perché questa è quella che avevo fatto quando disegnavo col programma della silhouette vedete è un po' diversa non ci sono sfumature non so se riesco a farvelo capire però è un po' diversa vorrei ridisegnarla mi sa che oggi pomeriggio lo faccio comunque adesso vado a segnare i video che ho già fatto in questa settimana dunque ricordiamoci ho fatto il video del calendario dell'avvento lunedì e quindi vado a mettere lo sticker qua martedì ho saltato giusto? sì e poi ho fatto mercoledì giovedì lo metto qua oggi è venerdì metto già perché so che andrà online questo video e vado a scrivere va quindi lunedì l'avvento abbiamo una controllata suba si sta riprendendo ok poi mercoledì ho bloccato bloccato mercoledì sì ho bloccato mercoledì giusti in realtà tutto ho già segnato sull'agenda che ho uso per organizzare i video però mi scoccia prenderla e qui facciamo plan with me poi vado a prendere sempre dal set degli stickers social network questi di facebook mi vado a segnare una cosa che non devo assolutamente saltare questa settimana la settimana scorsa l'ho fatto vado a segnare la pubblicazione di questa decorazione in cartopazze per la carto week va bene io direi che per questa volta per questo video possiamo anche chiudere qui mi tolgo gli occhiali così vi saluto senza riflesso segnerò le altre cose adesso vado a prendere l'agenda dove ho segnato le cose ho altro da segnare ma lo faccio con calma da sola adesso invece vi saluto fatemi sapere se il plan with me fatto in questo modo vi faccio vedere un po' quello che faccio sull'agenda un po' chiacchieriamo vi può piagere di più rispetto ad un plan with me con la musica in cui vedete che metto le cose al volo secondo me è un'idea carina magari per le prossime volte mi preparo qualcosina da dire perché non è semplice in questo modo non è affatto semplice comunque io adesso vi saluto se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi per questo video è tutto se vi va ci vediamo al prossimo video vi mando un grosso bacio ciao ciao